Il Financial Times Smette una lapide sulla Weinstein Company, se a un'azienda serve un articolo del New York Times per scoprire i comportamenti del suo capo, che tutti conoscevano, vuol dire che faceva finta di non sapere, e ora è pronta la Nemesi per il puzzone Harvey, pronto per comprarsi quel che resta del suo impero è Tom Barack, grande amico di Trump. Vendere o l'amico di Trump è la Nemesi di Weinstein, chi è Tom Barack, finanziere in affari da Nixon ai sauditi pronto a rilevare l'impero del magnate colpito dagli scandali. Sembra un copione scritto da uno sceneggiatore di Hollywood. Dopo le pesanti accuse di stupri e molestie che lo hanno travolto, Harvey Weinstein ha perso tutto, moglie e figli compresi, e adesso, quasi per contrappasso, la società che aveva fondato insieme al fratello Bob, oggi uno dei suoi grandi accusatori, finisce nelle mani dei suoi nemici politici. Da Obama e Hillary Clinton a uno degli uomini più vicini a Trump. The Weinstein Company, la casa di produzione cinematografica travolta dallo scandalo come il suo fondatore, ha raggiunto infatti un accordo preliminare con Colony Capital, società di investimento di Tomy Lunga. . Barra chi lunga R. Amico di lunga data di T. Donald è considerato un suo consigliere occulto, che sarà il prologo della vendita, se sarà totale o parziale è ancora da definire, al fondo di private equiti di Barra. . Siamo lieti di investire nella Weinstein e di aiutarla ad andare avanti, aiuteremo la società a riconquistare la posizione iconica che merita nell'industria indipendente del cinema e della televisione. . Per Barra, nipote di emigranti libanesi, che ha iniziato la carriera come avvocato nello studio dei legali di Nixon è un colpo ad effetto, che renderà il numero uno di Colony Capital ancora più potente nei palazzi di Washington e che potrebbe rivoluzionare in futuro anche il mondo del cinema. . . Conosciuto anche in Italia, la Colony Capital nel 2003 acquistò il consorzio Costa Smeralda, poi rivenduto al fondo del Qatar, Barra che ha lavorato molto con i Sauditi ed in passato è stato proprietario del Paris Saint-Germain. . . Ma è l'industria dell'entertainment e una sua passione, nel 2008 comprò Neverland, la grande reggia giochi di Michael Jackson e nel 2010 aveva già comprato dalla Disney la Miramax, prima creatura di Weinstein. . 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